Sicilia-Veneto, affinità e diversità gastronomiche. Un incontro che mette a relazione la cucina di due regioni, dalle tradizioni gastronomiche diverse per storicità e cultura. Presentato anche il piatto dell'amicizia, una fusione tra il cannolo siciliano e il baccalà Veneto, due emblemi di eccellenza, ambasciatori della gastronomia italiana nel mondo, selezionati dal progetto Eurofir, assieme ad altri tre prodotti nazionali dalla lunga tradizione, il brasato al barolo per il Piemonte, il castagnaccio per la Toscana e la pizza margherita per la Campania. Oggi vogliamo unire una sinergia, oggi la parola usata molto è sinergia, tra la cucina veneta e la cucina siciliana. Il piacere di non fare una provocazione ma unire, unire i migliori sapori che ci possono essere, quindi un invito a fare delle prove, a sperimentare perché a tavola si sta bene, si vive in convivialità e con gioia. I nostri sapori sono molto diversi e abbastanza vasti, ma soprattutto c'è il baccalà alla Vicentina, poi abbinato alla polenta di mais e molti ortaggi, fagioli, riso e anche carne.